ragazzi buonasera a tutti e sempre forza foggia ragazzi ieri c'è stata juventus inter io veramente dico che è stata una partita abbastanza noiosa noiosa perché perché voglio dire ma a dire la verità ha creato di più la juventus amici interisti che state sul mio canale diciamoci la verità ieri la juventus si è proprio schiacciato cioè voi quanti tiri in bordo avete fatto i card che ci ha battuto con l'utile che non avete fatto più niente cioè sì qualche cosa ma una volta che l'inter bloccate le fasce non hanno più perché quelli giocano con una punta cioè che i cardi quindi candriva e perisic chiudono e crossano e capito quindi una volta che tu come ha fatto il torino torino ha bloccato l'inter delle fasce non avete fatto più niente a torino tanto che mi sa che avete pareggiato col torino e quindi quello è il gioco dell'inter voglio bloccare bloccare le fasce non vanno più niente io la juventus ha creato di più voi dire sì ma quando nei tiri quando è c'è i gol 0 a 0 ritmi violati sì ma la juventus ha creato mazukic capite la traversa andanovic che è in usanti in bordo almeno andanovic 10 punti dall'inter andanovic mi ha salvato in un sacco di occasioni pure a napoli ha fatto alcuni paratuni che veramente se non gira andanovic secondo me per davate quindi secondo me il top player dell'inter oltre a spalletti e andanovic e andanovic a me i cardi non tanto c'è un buon giocatore un buon finalizzatore un giocatore d'aria di rigore normalissimo è un buon giocatore però non è che faccia sti grossi faccia invece più immobile sinceramente a me piace più immobile comunque un buon finalizzatore un attaccante d'aria di rigura oltre a andanovic e spalletti secondo me perisic però perisic non è che ira ha fatto chissà che so candriva un po' candriva cagliardini e tutti i giocatori cioè rispetto a juventus voglio manzucic d'aglas costa di bala che non aiutano i guai in quadrato voglio sai l'inter ha creato poco però vuoi un punto è duro è duro per l'inter perché io l'ho detto l'ho pure azzeccato è l'ho azzeccato nel video di spezia foggia ha detto secondo me è una partita ad alto rischio di pareggio non voglio tirare i piedi a nessuno l'ho detto e ho azzeccato infatti zero a zero il napoli pareggia pure a zero a zero con la fiorendina è tutto zero a zero però voglio dire se dobbiamo essere sinceri io l'ho detto sono di juventino lo sfottò sportivo e tutto questo però ieri la juve ha creato di più onestamente quindi amici interisti che siete sul mio canale diciamoci la verità avete fatto una buona prestazione una buona prestazione ma amore di buonissima prestazione per portarvi un punto per andare a torino a come ragazzi mi hanno avuto stati e giocarvele insomma però dovete ringraziare secondo me spalletti e andanovic che passa il vuto proprio alla traversa di manzucic madonna mia madonna mamma mamma voglio dire hai visto malamente comunque ragazzi questo è il mio mio post partita di intervento comunque ragazzi continuate ad iscrivervi al canale siamo a 60 vi ringrazio veramente a tutti ringrazio tutti se vi chiederete perché ad alcuni video i commenti sono disabilitati per non avere rotture di cazzo dei barisi e dagli altri tifusi che vengono solo a rompere il cazzo a me e ad altri ragazzi che stanno su youtube ragazzi io vi saluto a tutti un saluto un abbraccio sempre forza foggia solo per la maglia e non per chi la indossa sempre guagliù ieri purtroppo 0 a 0 prestazione una bella prestazione del leader però la juventus guagliù onestamente ha creato di più ci vediamo alla prossima sempre forza fotte ciao ragazzi